Bene, rieccoci di studio. Apriamo lo spazio medicina. Come vi avevo annunciato all'inizio della puntata, quest'oggi parliamo di diete. Dieta è una parola brutta, però io ho qui davanti un libro che si chiama La dieta perfetta. Ed è un libro che è stato scritto dal dottore Salvatore Baiamonte, che ha una storia un po' particolare perché lei è un nutrizionista e non solo, però ha deciso di scrivere questo libro anche con l'aiuto di uno chef che è Joseph Puma, che anche qui accanto lo presentiamo, perché sostiene che raggiungere il peso forma sia un modo per sentirsi in pace con se stessi. Di cosa si tratta? Prima di tutto colgo l'occasione per ringraziare la casa editrice Open Working, in particolare riferimento al signor Giampietro Zanga e al dottor Filippo Caravese, che con la pubblicazione del mio libro mi hanno dato finalmente l'opportunità di trovare un posto nel mondo. Ho trovato il mio posto nel mondo, infatti il libro è stato tradotto in Francia dalla più prestigiosa casa scientifica francese, che è una multinazionale. Questa casa editrice è stata fondata dai Premi Nobel e tuttora pubblica per Premi Nobel. Il libro tra l'altro è stato tradotto da uno dei più eminenti scienziati francesi che è il professor Robert Luft, l'ha voluto tradurre lui. Che lei diceva è un premio Nobel? Sì, mi sembra di sì, un famoso chimico strutturista appassionato di dietetica, l'ha voluto tradurre lui e il libro è venduto in tutto il mondo. Benissimo. E ma perché parliamo di dieta? Parliamo di dieta anche per ringraziare il mio sponsor che mi ha dato l'opportunità di... Alla fine, parliamo del libro, ce l'abbiamo qui. Allora guardi c'è una frase bellissima e soprattutto alle signore perché insomma l'estate si avvicina ci dobbiamo mettere in forma un po' tutti. C'è una frase bellissima che mi sta qui e dice, è una frase di Ippocrate e dice il nostro cibo dovrebbe essere la nostra medicina, la nostra medicina dovrebbe essere il nostro cibo. Sì, è proprio così. Io non ho la pretesa di... La dieta perfetta non è un titolo provocatorio. Questo titolo è stato scelto dal mio editorio perché ha capito meglio di me come funziona il libro. Io non ho la pretesa di dire quali sono gli alimenti perfetti per dare una vita più lunga. Ho solamente avuto la pretesa, la pretesa che è stata accettata poi dalla comunità scientifica internazionale, che è quella di dire che esiste il bilanciamento energetico perfetto. Io nel mio libro l'ho scritto e alle persone, sia ai uomini sia soprattutto alle donne, dico come bilanciare a livello ottimale una dieta, una dieta che dia la minore possibilità, che dia la minore morbidità e la minore mortalità. Quello che voglio dire è una dieta che dia minore possibilità di ammalarsi e di vivere più a lungo. Questo è quello che ho detto. Sì perché c'è anche questo rischio, se una dieta non funziona... Ma io parte dai larni... Può provocare seri danni, quindi queste cose diciamole... Sì, ma io faccio seriamente riferimento ai larni, sia alle tabelle nazionali che alle tabelle internazionali. I larni sono proprio dei punti di riferimento dove dicono che rispettando quella quantità di alimenti, quel bilanciamento degli alimenti sia dal punto di vista nutrizionale, quindi sia dal punto di vista glucidico, lipidico e proteico, sia dal punto di vista energetico, quindi rispettando i larni dal punto di vista energetico e dal punto di vista nutrienti, si può avere la possibilità di raggiungere il proprio peso-forma e di stare bene. È una dieta fisiologicamente equilibrata. Il mio titolo, in quanto ho presentato il mio manoscritto all'editore, il titolo era originale, è la dieta fisiologicamente equilibrata. Dottore Baiamonte, lei ha avuto un collaboratore d'eccezione nella stasura di questo libro che è appunto uno chef, che è Joseph Puma, che è qui accanto a lei. Vorrei passare il microfono. Joseph, io non so se per te, diciamo, era la prima esperienza... Assolutamente no. Diciamo che è un bel po' che mi occupo di cucinare un po' in generale, sono un tecnico e allo stesso tempo ho fatto più scritte, allo stesso tempo ricette. E com'è andata questa volta? Diciamo che stavolta in sintonia con Tottor Baiamonte, diciamo che ci siamo trovati abbastanza bene. Lui non mi ha raccomandato altro di esaltare esattamente tutti quelli che erano i nostri alimenti della dieta mediterranea, nonché l'olio d'oliva, i carboidrati, quindi la pasta, la carne, il pesce, il condimento sovrano delle nostre tavole e con piccoli suggerimenti che l'esperienza un po' nella vita mi ha dato, abbiamo composto una serie di ricette che sono facili da realizzare e allo stesso tempo a divertirsi. Possiamo citarne una su tutte così, per esempio? Semplici, guarda io non so cucinare. Diciamo che si avvicina l'estate, no? Si avvicina l'estate un po' tutti vogliono essere in forma. Io non potrei solo che raccomandare di utilizzare tantissimi vegetali e attenzione alle cotture, che siano delle cotture soft, leggere, lessi, cotture a favore, che naturalmente esaltano e non aggrediscono il prodotto, ma allo stesso tempo diciamo che lo rendono più propedevoli come la nostra salute. E a proposito di cibi salutari io vorrei proporvi una novità caro socio, perché i nostri ospiti qui accanto a me c'è un altro ospite che è il signor Mendolia, Filippo Mendolia, mi date il microfono grazie, lui non vuole parlare il signor Mendolia, non ci ha raccomandato altro no no no, gli facciamo soltanto una domanda, si è inventato però ovviamente con l'aiuto del dottore Bajamonte, in collaborazione del dottore Bajamonte, una nuova tipologia di pane che è un pane alle alghe. Ma hai mangiato pane alle alghe tu? Non ne ho idea, ma... No, è un pane alle alghe, lo vediamo scorrere le immagini che ci manda il nostro buon Gigi Bartolomeo, ma questo pane alle alghe... Questo è il pane alle alghe, lettera? Sì, sì, questo è il pane alle alghe, che si dice essere un pane dietetico che fa bene alla salute, addirittura delle potenzialità proprio dal punto di vista dietetiche. E io, siccome lui poi è... l'ha detto al settore, perché è proprio lui che è l'addetto ai lavori, perché è proprio lui che lo fa materialmente, vorrei semplicemente farti questa domanda e poi ti lascio in pace perché so che tu non vuoi parlare. Come nasce questo pane e... insomma, com'è? Com'è... è un pane che nasce un'idea di mio fratello, è nato, com'è... E' buono, ovviamente, fa bene alla salute, l'abbiamo detto. Sì, fa bene alla salute. Ma cos'ha di speciale? Agli speciali che fa bene all'ateroide, per perdere peso e... Ma che alghe ci sono dentro? Alghie marine. Anche marine. Quindi, vi siete inventati questa cosa, ma funziona la gente... Anche del resto, insomma. Come? Anche del resto, no. Sì, è senza... Dottore... Dottore Rogera. È la noia, per sbambalizzare alcuni obiettivi. No, ma lui... No, no, però, accanto al signor Mendolia c'è Diego Virgone, che è un biologo. Diego, io volevo chiedere a te, visto che lui è un po' timido e non ne vuole parlare, dal punto di vista nutrizionale, che valore ha questo... Allora, diciamo che non sono le alghe delle nostre zone. Prima di tutto... Allora, queste sono delle particolari tipi di alghe che vengono dal circolo polare artico e praticamente hanno una... è un tipo di alga che viene chiamata fucus biolososus, in cui le fibre sono molto importanti perché hanno un alto potere digestivo. Che significa? Praticamente, come noi sappiamo, molte quando si fanno le diete che fai da te e abbiamo delle patologie che si vengono a creare come, per esempio, la colite o la gastrite, che sono dei gas che vengono presenti nello sole. Diciamo che i pericenti e queste fibre hanno una capacità molto digestiva perché assorbono soprattutto sia i grassi che i carboidrati. Quindi, tra l'altro, rendono anche pericamente il pane molto più pericente e vengono digeribili rispetto agli altri tipi di pane. C'era il dottore Baiamonte che voleva aggiungere qualcosa. Prego, dottore. Io vorrei innanzitutto confermare la bontà del prodotto e per favore vorrei dire alle persone di non fermarmi più per strada e dirmi se va bene o non va bene. Perché io... mi fermano tante persone in strada e... Beh, la curiosità, no, mi perdoni, è normale. Io l'ho chiesto anch'io se è un po' bene. Io l'ho confermato pubblicamente nello spot, lo confermo ora. Tra le tante qualità positive ci sono due particolari sostanze che sono la laminarina e la fucoxantina. La laminarina è un glucosidio esonforato, ha una proprietà anticoagulante, abbassa la concentrazione del sangue e abbassa la concentrazione del lipide e del colesterolo nel sangue. Nello stesso tempo la fucoxantina è una particolare proteina e questo si è visto da studi fatti all'Università di Hokkaido, in Giappone. Questa proteina attiva la beta-ossidazione, quindi migliora il metabolismo basale. La beta-ossidazione, ripeto, non è altro che quel particolare meccanismo biochimico che ha la funzione di bruciare gli acidi grassi. Benissimo, grazie! Allora, riapriremo poi il... Vieni l'estra! Domenica è sempre domenica, rientriamo dalla pubblicità, diciamo che siamo alla tornata finale. E allora, dottore Baiamonte, io ho qui il suo libro, La dieta perfetta, come raggiungere il proprio peso-forma in modo semplice, gratificante e divertente attraverso un'alimentazione fisiologicamente equilibrata e personalizzata. Naturalmente, noi ci auguriamo che i nostri lettori, leggendo questo libro, che è condito da divertenti ricette, possano raggiungere questo obiettivo. Però c'è una cosa che mi incuriosisce, del dottore Baiamonte. Dunque, lui è un nutrizionista, analista e nutrizionista. Però lei a un certo punto ha sentito anche l'esigenza di lavorarsi in legge. Mi sbaglio? Sono informato bene? Sì, sono... È un avvocato lei. Un avvocato penalista, sì. Mi spiega come mai? È una cosa curiosa, no? Dico, lui era ormai già un affermato professionista, eccetera, eccetera. Però poi ha deciso di diventare avvocato. Sono juventino, quindi toga nera e camice bianco vanno d'accordo. Ah, addirittura. Io non so se lei ha sentito...